Proseguiamo velocissimi la nostra carrellata, lei si chiama Sara Andreozzi. Ragazzi decisi con questi applausi eh? Allora Sara Andreozzi, anni? Tredici. Arrivi da? Latina. Latina, frase? Tutti i bambini hanno il diritto all'istruzione, alle cure mediche e soprattutto ad essere felici e noi tutti abbiamo il dovere di aiutarli. Bravissima. Allora, prendi il microfono, Sara Andreozzi canta L'ultimo addio. La strada neanche la guardavi, andavi veloce. Pacevi e mi sorridevo senza un perché. I treni persi il lunedì, le notti di Amsterdam. E mi piaceva andare a letto con te, tutte le volte come l'ultimo da vivere. E giro intorno e non mi fermo mai, sono uguale a te. Sai che il tuo fondo non ti accorgerai, che sei con me. Sono proprio io, non è più importante. Guarda il modo mio, non ho mai ricordo niente. Guarda il mio, non ho mai ricordo niente. Guarda il mio, non è più importante. Guarda il mio, non ho mai ricordo niente. Mi ricorda, sì, mi dicevo di fidarmi con me, ma io volevo solo te. E giri intorno e non mi penso che ormai sia uguale a te, e anche se a quello non ti accorderai che sei con me. Ciò che provo io non è più importante, ma io devo dire che non ho mai risolto niente. Sei l'ultimo addio per me, sei l'ultimo addio per me. E giri intorno e non mi penso ormai sia uguale a te, e anche se a quello non ti accorderai che sei con me. Ciò che provo io non è più importante, fare a modo mio non ha mai risolto niente. Sara, grazie, grazie cara.